Io non dò le dimissioni perché ho un segno di abbandono e mi sono preso un impegno nei confronti dei soci e qui si sta parlando di 10,2 milioni sul tavolo che ho portato io e gli altri membri del CDA. Andrea Boldi non molla, anzi rompe gli indugi e passa l'attacco. La sua richiesta è quella di un incontro pubblico con il primo cittadino di Arezzo, Alessandro Ghinelli, con al centro ovviamente la proposta d'acquisto arrivata dal colosso fieristico IEG per ora Arezzo e Gold Italy. Le due fiere, Orafi e Aretine. Io credo forse sia necessario per chiarire a tutti i cittadini di Arezzo, dei quali sono stati utilizzati 40 milioni per fare questa struttura, per far capire che qui non c'è una guerra, qui c'è un'opportunità per Arezzo. Nelle ultime ore gli industriali Orafi di Arezzo, pur non chiudendo la porta alla proposta d'acquisto, hanno chiesto più tempo per valutare l'offerta e reclamano garanzie per il territorio aretino. Chi vuole allungare il tempo lo vuole allungare per perdere tempo, ma il mondo non aspetta noi. Già abbiamo perso troppe occasioni per questi veti incrociati di piccoli gruppi che sinceramente non hanno a cuore Arezzo ma hanno a cuore forse il proprio orticello. Gli Orafi già lavorano con gli EG da due anni e si rendono assolutamente conto di quelli che sono i benefici che stanno arrivando e che possono arrivare. Gli Orafi sono stati felicissimi della soppressione dell'edizione di maggio di Vicenza e quindi sanno che questa fiera crescerà. Vogliono fondamentalmente solo due cose che sono assolutamente previste e certe, cioè che la fiera rimanga ad Arezzo e che non ci siano salti in aria, tariffari che portino questa fiera ad avere dei costi che non sono al momento sostenibili dalle aziende. Quindi serve solo questo.